La pratica F31 mi è tornata indietro un'altra volta, sarà la terza volta. Evacuazione orizzontale progressiva. Le cose vanno a terminare? Ah, se le cose terminano, secondo te hanno più senso? Certo! Ah, non vi incazzate! Ma se una pratica deve essere finita io! Io la finisco il giorno dopo. Quando le cose noi le facciamo, le cose sono fatte sicuramente. Che ne sono? Le 17. 1701! Stacco! Torneo di Migliardo Figline Valdanno, specialità poliziana. Si sfida il campione in carica Ciccone con lo sfidante Bartoretti. La mia pratica? Beh, io la considero perfetta! Ti avvicini con la scusa e la sigaretta, gli apri il finestrino. Gli sfoti il carosene dentro e gli dai fuoco! Affiammato! Un spettacolo, ragazzi! Eppure c'è un gatto! Ma sei impazzito? Stavi per capottare? Ma stavo per capottare perché sento che è tutto inutile! Rattricciati! O sarò postretto ad abbattarti! Io credo che a questo punto non ci sia niente di bene che fare fuori chi ti sta bloccando la pratica. Vado a comprare le sigarette? Ma che cosa sta facendo? Ha detto delle sue campanature! Ma non ce l'ha un nome costui! Ma che cosa vuole? Vuole altro denaro! Hai capito i signorini eh! C'è la crazy! Ma i pali li rimettete! Non avevo calcolato che il fratello del sindaco ha una fabbrica di cartelli stavano. Bastardi! 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 Galera! Dove sei? Cosa? Se non sono tornato a casa in questi giorni? Mi sono preso un po' di tempo per me! È lo stato dei fiore? È lo tratto dei fiore? Te lo tatlo dei fiore! Grazie a tutti.